La popolazione è in salvo, non ci sono... ecco un'altra scossa in questo momento Ecco lo vedete, lo vedete che stanno continuando i crolli della Basilica un altro grosso macigno è crollato proprio in questo momento purtroppo sono ancora... vorrei rassicurare sul fatto che noi siamo in una posizione tranquilla perché siamo al centro della piazza ci spostiamo un po', ci chiedono i vigili del fuoco di spostarci un po' perché alcune pietre potrebbero... Ci può essere un rotolamento di massi di un certo peso, di una certa dimensione che potrebbero... È stata una bella scossa ingegnere Una delle tante che stiamo vivendo in questo periodo